La Giunta regionale ha attribuito ai comuni 1,8 milioni di euro per interventi sui territori di competenza, quasi 283 mila euro a saldo del Fabbisogno 2020 del Fondo Nazionale per il Sostegno all'Accesso delle Abitazioni in Locazione stimato pari a quello accertato per il 2019 in favore dei comuni che hanno già concorso alla ripartizione delle somme anticipate per il 2020 con riserva di conguaio, incremento-decremento a seguito dell'accertamento del Fabbisogno reale. Altri 217 mila euro, quale Fabbisogno 2020 del Fondo Nazionale per il Sostegno all'Accesso delle Abitazioni in Locazione in favore dei comuni che non hanno concorso alla ripartizione delle somme anticipate per lo stesso anno. Una quota pari a circa 213 mila euro riguarda invece gli studenti universitari fuori sede per il rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati per i residenti in luogo diverso rispetto a quello dove si trova l'immobile locato. Infine quasi 1,1 milioni di euro da destinare nell'ambito della misura di sostegno già avviata dalla Regione relativa al Fondo di Solidarietà regionale Covid-19 all'erogazione di contributi per il pagamento di canoni, di affitto e utenze delle abitazioni a favore dei nuclei familiari in evidenti situazioni di disagio economico. Tali somme potranno essere ulteriormente incrementate qualora si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse di bilancio. Fa sapere il sottosegretario alla Presidenza dell'Aggiunta regionale Roberto Di Baggio. I comuni assegnatari delle somme dovranno ora attivarsi per i rispettivi territori dovendo rendicontare l'impiego delle somme attribuite entro il 31 gennaio 2021. Tra l'altro possono rimodulare le somme attribuite in base alle loro necessità effettive adeguando lo stanziamento ricevuto in base alle necessità del loro territorio. Le maggiori criticità sono nei grossi centri, sono nel centro di Campobasso e nel centro di Serna. Grazie. 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 Grazie.